Cime tempestose, capitolo ventottesimo. La mattina, o piuttosto il pomeriggio, del quinto giorno, udì un passo diverso che si avvicinava, un passo più leggero e più corto, e questa volta la persona entrò in camera. Era zilla, con il suo scialle scarlatto, un cappello di seta nera e un canestro di vimini sul braccio. «Oh mio Dio, la signora Dean!» esclamò. «Bene, si parla di voi a Gimmerton. Ero certa che foste caduta nella palude del cavallo nero insieme con la signorina. Poi ho sentito dal padrone che eravate stata ritrovata e che egli vi aveva alloggiata qui. Dio buono! Certo, avete dovuto rifugiarvi in qualche isolotto, eh? E quanto tempo ci siete rimasta? È stato il padrone a salvarvi, signora Dean? Ma non mi sembra che siate diventata troppo magra, né che abbiate molto sofferto, non è vero? «Il vostro padrone è un malfattore», dissi. «Ma dovrà rispondere di quel che ha fatto. E' proprio inutile che abbia inventato tutta questa storia. La verità sarà conosciuta lo stesso. «Cosa volete dire?» domandò Zilla. «Non è sua questa storia. Lo raccontano al villaggio che vi siete perduta nella palude. Quando sono rientrata, ho detto a Unshaw. Eh, signor Hurton, che cose strane sono accadute dopo la mia partenza. È una vera pietà per quella bella figliuola e per quell'ottima Nellie Dean!» Mi ha guardato con aria sorpresa. Pensai che non ne avesse sentito dir nulla e riferì la voce. Il padrone mi stava ad ascoltare. Poi sorrise tra sé e disse «Se sono state nella palude, adesso ne sono uscite, Zilla. Nellie Dean occupa in questo momento la tua camera. Puoi dirle d'andarsene pure quando sali. Ecco la chiave!» L'acqua del pantano le era entrata in testa ed ella se ne sarebbe andata a casa tutta esaltata. «Io invece ho voluto tenerla qui finché avesse riacquistato completamente l'uso della ragione. Puoi dirle di andare alla Grange subito, se ne è capace, e di annunciare da parte mia che la sua padroncina la seguirà proprio in tempo per assistere ai funerali del padre. «Il signor Edgar non è morto, vero?» Balbettai con voce strozzata. «Oh, Zilla, Zilla!» «No, no, sedetevi, mia buona signora!» rispose. «Voi non vi siete ancora rimessa completamente? Non è morto. Il dottor Kenneth pensa che potrà resistere ancora un giorno. L'ho trovato per istrada e gliel'ho chiesto. Invece di sedermi, afferrai i miei indumenti e mi affrettai a discendere dato che la via era libera. Entrando in sala, guardai intorno per vedere se ci fosse qualcuno in grado di darmi notizie di Catherine. La stanza era piena di sole e la porta spalancata, ma non si vedeva alcuno. Mentre stavo lì, incerta, se dovessi andarmene subito o tornare invece sui miei passi a cercare la padroncina, una leggera tosse attirò la mia attenzione dalla parte del focolare. Linton era sdraiato sopra una panca, tutto solo, e seguiva, con uno sguardo apatico, succhiando un bastoncino di zucchero filato, tutti i miei movimenti. «Dov'è la signorina Catherine?» domandai energicamente, supponendo di poterlo spaventare, dato che era così solo, e di costringerlo a darmi delle informazioni. Egli continuò a succhiare come un bambino innocente. «E' andata via?» «No», rispose. «E' di sopra. Non se ne deve andare. Noi non la lasceremo andare». «Voi non la lascerete andare, piccolo idiota!» esclamai. «Mi conduca immediatamente alla sua camera, se non vuol che la faccia cantare in qualche maniera più brusca». «Papà sì che ti farà cantare, se tenti di andarci», rispose. «Egli dice che io non devo essere dolce con Catherine. È mia moglie, ed è una cosa vergognosa che voglia lasciarmi. Egli dice che essa mi odia e desidera che io muoia per poter avere il mio denaro, ma non lo avrà e non tornerà a casa sua mai più. E pianga pure e stia male finché vuole». Riprese la sua occupazione e abbassò le palpebre come se volesse dormire. «Signorino Heathcliff», ripresi, «ha dimenticato tutte le gentilezze che Catherine ha avuto per lei l'inverno scorso, quando lei diceva di amarla. E tutti i libri che le portava e le canzoni che cantava per farle piacere. E quante volte veniva a trovarla sfidando il vento e la neve. Se una sera non poteva venire, piangeva, pensando che a lei sarebbe dispiaciuto. E lei stesso sentiva che ella era cento volte troppo buona. E adesso, invece, ecco che lei presta fede alle bugie di suo padre, pur sapendo che vi odia tutti e due. E si unisce a lui contro Katie. Bella gratitudine, non è vero? Gli angoli delle labbra di Linton s'abbassarono. Ed egli tolse lo zucchero di bocca. Katie è forse venuta alla tempestosa perché odiava lei? Continuai. Ma pensi un po' con la sua testa. Quanto al denaro, essa non sapeva nemmeno che lei ne avesse. Lei dice che è ammalata, eppure la lascia sola di sopra, in una casa straniera. Lei, che sa bene cosa vuol dire esser trascurati in questo modo. Quando si trattava di aver pietà delle proprie sofferenze, signorino, ne era ben capace, vero? Ed essa pure era pietosa con lei. Ma adesso che è Katie, ad aver bisogno di un po' di pietà, lei non ne sente un briciolo. Io piango, signorino Ecliffe, io, una donna in età, e una semplice domestica. E lei, lei dopo aver finto un grande affetto, lei che avrebbe delle ragioni per adorarla quasi, serba tutte le sue lacrime per se stesso, e se ne sta sdraiato e pacifico. Ragazzo egoista e senza cuore! Io non posso star con lei, rispose sgarbatamente. Eppure non mi piace restare solo, ma piange in un modo insopportabile, e non la vuol smettere nemmeno quando le dico che chiamo il babbo. Una volta l'ho chiamato davvero, ed egli ha minacciato di strangolarla se non se ne fosse stata quieta. Ma poi, appena uscito lui dalla camera, essa ricominciò e continuò a gemere e a lamentarsi tutta la notte, sebbene io strillassi dal fastidio che provavo per non poter dormire. E fuori il signor Ecliffe, domandai, accorgendomi che quel disgraziato era incapace di sentir simpatia per le torture morali della cugina. E in corte sta parlando con il dottor Kenneth, il quale dice che lo zio muore per davvero, infine, questa volta. Son contento perché, dopo, il padrone della Grange sarò io. Catherine ne parla sempre come della sua casa. Non è sua, è mia. Il babbo dice che tutto quello che lei ha è mio. Tutti i suoi bei libri sono miei. Ella me li ha offerti e, insieme, anche i suoi begli uccelli e il suo pony mini, purché io mi procurassi la chiave della nostra camera e la lasciassi andare. Ma io le dissi che lei non aveva più nulla da darmi e che era già tutto, tutto mio. Allora si mise a piangere e si tolse dal collo una piccola miniatura e mi disse che mi avrebbe data quella. Erano due ritratti in un medaglione d'oro, da una parte sua madre e dall'altra lo zio, quando erano giovani. Fu ieri. Io le dissi che anche quei ritratti erano miei e cercai di strapparglieli. Ma lei dispettosa non volle e mi diede uno spintone e mi fece male. Mi misi a urlare. Questo la spaventa. E lei, sentendo mio padre che veniva, ruppe la cerniera, divise in due il medaglione e mi diede il ritratto di sua madre. L'altro cercò di nasconderlo. Ma il babbo chiese che cosa era avvenuto ed io gli raccontai tutto. Egli mi prese il ritratto che avevo io e ordinò a lei di darmi subito il suo. Essa rifiutò e lui... Lui la buttò per terra e le strappò il resto del medaglione dalla catena e lo schiacciò sotto i piedi. E lei era contento di vederla picchiare? Domandai. Avevo le mie ragioni per spingerlo a parlare. Io chiusi gli occhi, rispose. Io chiudo sempre gli occhi quando mio padre picchia un cane o un cavallo, picchia tanto forte. Pure, da principio ero contento perché si meritava un castigo per avermi dato gli spintoni. Ma quando il babbo se ne fu andato ella mi fece venire vicino alla finestra e mi mostrò la sua guancia che si era tagliata nella parte interna contro i denti e le riempiva la bocca di sangue. Poi raccolse i pezzetti della miniatura e se ne andò a sedere con la faccia verso il muro e non mi rivolse più la parola. Qualche volta penso che non può parlare per il dolore ma non mi piace pensar questo. Del resto è ben cattiva pianger sempre così ed è così pallida e arrabbiata che mi fa paura. E lei potrebbe procurarsela la chiave se volesse? Dissi Sì, quando sono di sopra rispose Ma adesso non posso andare di sopra E in che stanza è questa chiave? Domandai Oh, gridò Non lo dirò a voi dove si trova È il nostro segreto Nessuno Neppure Erton o Zilla lo conoscono Basta Mi avete stancato Andatevene via Via Appoggiò il viso al braccio E chiuse gli occhi di nuovo Pensai che era meglio andarsene senza vedere il signor Ecliffe e condur su poi gente dalla Grange a liberare la mia padroncina Quando arrivai a casa lo stupore e la gioia degli altri domestici nel vedermi furono intensi e quando sentirono che la signorina era salva due o tre di essi fecero percorrere alla porta del signor Edgar a gridargli la notizia Ma invece io vogli incaricarmi di persona dell'annuncio Come lo trovai cambiato in quei pochi giorni? Se ne stava disteso come un'immagine della tristezza e della rassegnazione ad aspettare la morte Sembrava giovanissimo e sebbene avesse in realtà 39 anni lo si sarebbe detto più giovane di dieci anni almeno Pensava a Catherine perché ne mormorava il nome Gli toccai una mano e parlai «Catherine, tra non molto sarà qui mio buon padrone» dissi piano «E' viva e sta bene Sarà qui, spero, questa sera» Tremai per l'effetto che queste parole subito gli fecero Egli salzò a metà Si guardò in giro ansiosamente e ricadde svenuto Appena ebbe ripreso conoscenza gli raccontai la nostra visita forzata e la nostra detenzione alla tempestosa Gli dissi che Ecliffe mi aveva costretto ad entrare il che non era del tutto vero Dissi il minor male possibile di Linton né gli descrissi la condotta del padre di lui essendo mia intenzione non aggiunger nuova amarezza alla sua coppa già troppo ricolma Egli indovinò che uno degli scopi del suo nemico era quello di assicurare al proprio figliuolo o meglio, a se stesso tanto la sua proprietà terriera quanto la sua fortuna privata Ma perché poi non attendesse la sua morte rimase sempre un enigma per il mio padrone il quale ignorava che lui e il nipote avrebbero abbandonato insieme questo mondo Comunque si rese conto dell'opportunità di modificare il suo testamento Invece di lasciare la fortuna di Catherine a disposizione di questa risolse di affidarla a fide commissari che gliene avrebbero passato l'usufrutto in vita e l'avrebbero trasmessa poi ai figli di lei dopo la sua morte Così la sostanza non sarebbe caduta tra le mani di Ecliffe se Linton fosse venuto a morire Dopo aver ricevuto i suoi ordini mandai un uomo a cercare il legale e quattro altri, ben armati a reclamare la mia padroncina al suo carceriere Tutti rimasero fuori molto tempo Quello che se n'era andato solo ritornò per primo Disse che il signor Green, il legale non si trovava in casa quando egli era arrivato che aveva dovuto aspettarlo due ore e che poi gli aveva detto di avere un piccolo affare da sbrigare nel villaggio ma che sarebbe stato a Trashcross Grage prima di mattina I quattro uomini pure ritornarono soli Riferirono che Catherine era sofferente troppo sofferente per poter lasciare la sua camera e che il signor Icliff non aveva permesso loro di vederla Diedi una buona lavata di capo a quei quattro imbecilli per aver prestato fede a una simile frottola Ma non ne feci parte al padrone decisissima a condurre tutto uno stuolo di domestici alla tempestosa sul far del giorno e a prender d'assalto sul serio la casa se la prigioniera non ci fosse stata resa con le buone Suo padre doveva vederla l'avevo giurato e lo giuravo anche se quel demonio di Icliff avesse dovuto morire sulla soglia di casa sua cercando di opporsi Fortunatamente quella spedizione e quella briga mi furono risparmiate Ero discesa alle tre per attingere una brocca d'acqua e stavo attraversando il vestibolo appunto con la brocca in mano quando un colpo secco picchiato alla porta principale mi fece sobbalzare Ah! Sarà Green! mi dissi riprendendomi Non può essere che Green e proseguì con l'intenzione di mandar qualcun altro ad aprire Il colpo fu battuto di nuovo non pesante ma impaziente Deposi la brocca ai piedi della ringhiera e mi affrettai ad aprire Fuori brillava limpida la luna piena Non era illegale La mia cara padroncina mi saltò al collo singhiozzando Ellen! Ellen! È vivo il papà! Sì! gridai Sì angelo mio È vivo Dio sia lodato Lei è qui di nuovo al sicuro tra di noi Tutta affannata e ansante com'era voleva correre subito di sopra nella camera del signor Linton Ma io la costrinzi a sedere le diedi da bere e lavai il suo palido faccino al quale ridiedi un po' di colore strofinandolo col mio grembiule Quindi le dissi che era meglio andassi io prima ad annunciare il suo arrivo e la scongiurai di dire che sarebbe stata felice con il giovane Icliff Mi guardò stupita ma comprese subito perché le consigliassi di dire una simile menzogna e mi assicurò che non si sarebbe lagnata Non ebbi il cuore di assistere al loro colloquio Restai un quarto d'ora fuori della camera Poi entrai avvicinandomi con titubanza al letto Tutto era quieto La disperazione di Catherine era silenziosa come la gioia del suo babbo Ella lo sosteneva calma in apparenza ed egli fissava con gli occhi alzati e come dilatati dall'estasi i lineamenti della figliuola Morì felice signor Lockwood Sì Morì proprio felice Baciando Katie sulla guancia mormorò Io vado verso di lei e tu bambina mia cara ci raggiungerai Poi non si mosse e non parlò più Ma continuò a fissarla con uno sguardo rapito e raggiante finché il suo polso insensibilmente si arrestò e la sua anima volò via Nessuno avrebbe potuto dire il momento preciso della sua morte che fu del tutto priva di lotta Sia che Katie avesse ormai pianto tutte le sue lacrime sia che il suo dolore fosse troppo profondo per concederle questo sfogo Ella restò seduta lì con gli occhi asciutti fino al sorger del sole poi ancora fino a mezzogiorno e non si sarebbe distolta dalle sue meditazioni su quel letto di morte se io non avessi insistito per portarla via e farle prendere un po' di riposo Fu un bene che io fossi riuscita nell'intento perché all'ora di pranzo comparve il legale che era stato prima la tempestosa a prendere istruzioni circa quel che doveva fare Egli si era venduto al signor Icliff e questa era stata la ragione dei suoi indugi nel rispondere alle chiamate del mio padrone Per fortuna nessun pensiero degli affari di questo mondo era venuto a turbar gli ultimi momenti del signor Edgar dopo l'arrivo di sua figlia Il signor Green s'arrogò di comandare tutto e tutti in casa Licenziò tutti i domestici tranne me e avrebbe spinto l'autorità che gli era stata conferita fino a voler che Edgar Linton fosse sepolto non a fianco di sua moglie ma bensì nella cappella con la sua famiglia C'era però il testamento che si opponeva a ciò cui si unirono le mie alte proteste contro ogni infrazione ai desideri espressi I funerali furono assai affrettati A Catherine la signora Linton Ecliffe ormai fu concesso di restare alla Grange fino a che la salma di suo padre ne fosse uscita Ella mi raccontò come la sua angoscia avesse infine deciso Linton a correre il rischio di liberarla Aveva sentito gli uomini inviati da me che disputavano sulla porta e compreso il senso della risposta di Ecliffe Ciò aveva messo il colmo della sua disperazione Linton che era stato portato su nel salottino poco dopo la mia partenza ne aveva riportato un tale spavento da andare a prendere la chiave prima che suo padre risalisse Aveva avuto l'astuzia di aprire la serratura poi di richiuderla ma senza chiuderla porta e quando era venuta l'ora di andare a letto aveva domandato di poter dormire con Erton il che una volta tanto gli era stato concesso Catherine era fuggita prima che facesse giorno non osando tentare le porte per paura che i cani dovessero dar l'allarme aveva visitato le camere vuote ed esaminate le loro finestre per buona sorte nella camera che era stata quella della sua mamma c'era una finestra dalla quale aveva potuto scivolare fuori e quindi grazie a un pino che le cresce vicinissimo raggiungere il suolo il suo complice poi nonostante tutti sotterfugi scontò la parte che aveva preso all'evasione e attraverso